Alle 7.18 su Radio Capital con Andrea Lucatella e Riccardo Quadrano e diamo il buongiorno al primo ospite della trasmissione. Allora parliamo di Green Pass perché ci siamo, praticamente entro fine mese dovremo essere in grado di scaricare questo documento che diventerà molto prezioso e che ha anche un nome preciso perché il nome ufficiale sarà certificato verde Covid-19, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, quindi l'Italia. Allora noi questa mattina ne parliamo con un grande esperto di privacy, uno dei maggiori giuristi della rete, il prorettore dell'Università Europea di Roma, e il professor Alberto Gambino. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, intanto le volevo chiedere un po' un suo parere su quello che sta succedendo in tema vaccinale perché le regioni stanno andando per conto proprio, nonostante il governo abbia chiesto appunto di eliminare AstraZeneca da richiami, prima la Campania ma oggi scopriamo anche il Lazio, vogliono proseguire su questo. Insomma, l'autonomia regionale che diciamo prende piede e supera quelle che sono le decisioni del governo centrale. Volevo sentire un suo parere su questo. Sì, in effetti stiamo assistendo a un'applicazione un po' diciamo così distonica di quelli che sono i principi in tema sanitario. Lo Stato italiano definisce le regole generali sulla tutela della salute, però l'organizzazione spetta le regioni. Allora, nell'ambito di questa organizzazione c'è certamente una responsabilità verso i cittadini e quindi i governatori si pongono il problema sull'efficacia, sui possibili effetti collaterali dei vari vaccini e entrano in conflitto anche con le direttive dello Stato perché in definitiva i governatori rappresentano i territori regionali. C'è il tema del consenso anche perché per certi versi è l'unica elezione diretta che abbiamo in Italia e quindi questo apre il conflitto che si cerca di dirimere nella cosiddetta conferenza Stato-Regioni dove si arriva a un punto comune di veduta. Perché la salute dovrebbe essere nazionale in qualche modo, non è che se una cosa fa male in Campania non fa male nel Lazio, no? Eppure le decisioni poi vengono prese come dice lei alla fine a livello politico. Sì, è nazionale, tuttavia con la riforma delle competenze regionali è stato dato un grande peso alle regioni e quindi talvolta si dice le regioni organizzano la sanità ma inevitabilmente nell'organizzare la sanità c'è il tema delle risorse, c'è il tema dei finanziamenti, c'è anche il tema dell'allocazione diversa delle soluzioni e quindi questi principi generali se non sono ben chiari questo è il rimprovero che sia stato fatto da parte dei governatori in qualche modo al generale Criscuolo che le direttive non sono chiare e non essendo chiare a quel punto le regioni hanno dei margini di discrezionalità. Ecco, però mi chiedo, professor Gambino, ma fino a che punto potranno spingersi le regioni per mettersi di traverso, diciamo così, a quelle che dovessero essere le indicazioni del governo centrale? Cioè qual è il margine a disposizione delle regioni per potersi opporre? Il margine è molto ampio perché poi si apre un conflitto addirittura davanti alla Corte Costituzionale e quindi se vogliono tenere il punto noi consideri che abbiamo centinaia di ricorsi alla Corte Costituzionale proprio il cosiddetto conflitto di attribuzione fra le regioni e lo Stato italiano e diventa poi a quel punto un problema anche politico. Non dovrebbero discostarsi dalle linee guida dello Stato italiano e tuttavia se lo fanno possono addurre, come nel caso specifico, che c'è mancanza di chiarezza e sa lì c'è tutto il tema, il vaccino è consigliato, il vaccino invece è obbligatorio sotto i 60, sopra i 60 e se la parola non è chiarissima un domani la Corte Costituzionale potrebbe dire beh in effetti le linee guida dello Stato italiano non consentivano alla regione di attuarle in modo perentorio e quindi a quel punto la regione potrebbe aver ragione. E poi il Green Pass, insomma tutto pronto per il Green Pass, scrivono i giornali, la richiesta anche dal medico però scopriamo che non servino hotelle e ristoranti. Diciamo è stato un passaggio un po' diciamo complicato quello del Green Pass anche per l'intervento dell'autorità della privacy che ha messo in luce alcuni aspetti secondo l'autorità pericolosi per il cittadino, insomma. Lei che ne pensa? Sì, allora qui il tema di fondo è che c'è un disallineamento con il Green Pass europeo e quello italiano e cioè è anche un bene per certi versi l'Italia è stata più veloce dell'Europa è stata più veloce perché c'è un momento di grande reazione della cittadinanza vuole ricominciare a lavorare, vuole produrre, vuole girare e quindi a un certo punto il governo italiano ha dovuto porre rimedio per evitare che si ricominci con il lockdown e comunque con il dilagare di nuovo del virus. A questo punto non abbiamo una base normativa europea, questo è il punto critico e abbiamo invece un provvedimento dello Stato italiano, un decreto. E qui già il primo problema è la privacy perché invece la privacy come è noto deve avere una base giuridica chiara ed è in questo senso di fonte europea quindi già la base giuridica tutta italiana mette in dubbio la correttezza anche perché poi questo Green Pass servirà per girare e non stare soltanto in confini italiani. E poi c'è il tema della finalità del trattamento e la finalità è un po' quello che ha accennato lei e chi ci dice che oggi si utilizza solo per alcuni casi specifici e un domani invece non venga richiesto per tante altre vicende dove a quel punto va a conculcare la libertà di circolazione. Cioè quindi lei professore ipotizza che possa andare anche oltre l'emergenza pandemica questo certificato? Potrebbe andare oltre e non solo è possibile che vada oltre ma faccia attenzione qui c'è un'interazione privacy e soprattutto tecnologie si usa una app, si usano dei codici e si usa anche una serie di dati sensibili della persona che effettivamente oggi forse nella fretta, nella voglia di riprendere i cittadini mettono dentro queste app, dentro questi sistemi informatici per essere più corretti e inevitabilmente subiscono un tracciamento di propri dati da parte a questo punto, questo è l'altro punto interrogativo del garante qual è l'autorità che effettua il trattamento di questi dati? Perché questo anche non è chiaro nei decreti e quindi un domani potrebbero esserci una mole di dati personali all'interno di banche dati e che possono poi circolare autonomamente o addirittura per finalità di commerciali, di marketing identificando i vari cittadini in base anche al tema del dato della salute è un pacchetto molto importante e molto che fa gola a molti però già succede così perché basta vedere cosa succede appena facciamo una ricerca su internet veniamo bombardati dalla pubblicità quindi vuol dire che i nostri profili già qualcuno li tiene non c'è dubbio però è diverso, è diverso se parliamo di dati della salute un conto è che sono dati che riguardano i nostri gusti commerciali navighiamo, vediamo una lavatrice, un libro e poi ci veniamo bombardati un conto è che invece sono legati a se abbiamo avuto il covid e non l'abbiamo avuto siamo stati positivi, attenzione, sono dati sensibilissimi sono dati sulla salute, basti pensare ad esempio che da qualche anno le società di calcio non danno più informazioni sugli infortuni dei calciatori anche a beneficio dei tifosi che volessero sapere in realtà rimane tutto piuttosto all'oscuro e se si viene a sapere si viene a sapere di straforo quindi questo non fa capire pensi alle polizze assicurative pensavo esattamente a quello quanto fa gola a un'assicurazione sapere di noi qual è il nostro stato di salute anche riguardante il passato e un'eventuale contrazione del covid esattamente a quello che pensavo professore Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma grazie per essere stato con noi grazie professore, buon lavoro